Quello che sta dicendo lei mi sembra grande buon favore. Lei è qui a Firenze anche per un calendario? Soprattutto per questo, perché attraverso le immagini di questo calendario fatto da Massimo Sestini, attraverso l'ospitalità della città di Firenze e della sua casa comunale, il sindaco a Mardella, vogliamo mostrare quanto più è possibile vicinanza ai cittadini, vicinanza alla città di Firenze, il nostro impegno e la nostra azione, coniugando sia l'aspetto operativo anche con un aspetto artistico e umano come quello di una fotografia così bella e così importante.